I militari della sezione di Porto Levante della Guardia di Finanza, a seguito di un avvistamento dell'elicottero delle fiamme gialle di Tessera, hanno eseguito un sopralluogo su un isolotto all'interno dell'alveo del fiume Po, in una località limitrofa al comune di Porto Viro. Una volta sbarcati sull'isolotto hanno iniziato una perlustrazione dell'intera area, riuscendo, nonostante le difficoltà causate dalla presenza di una folta vegetazione, ad individuare tre aree appositamente bonificate per una piantagione di cannabis con più di 70 piante. Le piante sono state stirpate.